In questo video vediamo, vediamo, vediamo in questo video sette errori che fai quando ti piace un uomo. Evitali. Allora, quali sono sette errori che fai quando ti piace un uomo? Errori che devi assolutamente evitare. Devi assolutamente evitare perché se ti piace un uomo tendi a, potremmo dire, fare cazzate. Tendi a non riuscire a mettere in atto le giuste strategie di seduzione perché l'emotività prende sopravvento, l'emotività diventa totale e non ti permette più di andare avanti, non ti permette più di ottenere dei risultati importanti nella tua vita. L'emotività non ti permette più di raggiungere risultati significativi nella tua vita. Allora, questo è un punto che devi prendere in considerazione, un qualcosa che devi tenere in considerazione. Allora, e quindi devi riuscire a mantenere un controllo, un controllo totale, un controllo potente sulla situazione. Quindi quali sono questi sette errori? Il primo errore è che inizia a reagire in modo eccessivo, cioè quando qualunque cosa faccia questa persona, tu hai delle reazioni eccessive, non riesci a governare, non riesci a controllare le tue reazioni. Quindi ti dimostri instabile. Per dire, se lui, che ne so, fa qualcosa che in qualche modo non ti piace, tu inizi a dare di matto, inizi a sclerare, inizi a non essere più stabile, non essere più emotivamente stabile. Quindi hai reazioni eccessive. Un altro errore che spesso fanno le donne e che, questo è molto importante, si creano aspettative. Quindi evita questo errore, perché le aspettative, l'illusione, ti porterà alla delusione. È un punto da tenere presente questo. Se tu ti illudi, sarai delusa. E molte donne si creano aspettative. Conoscono un uomo che gli piace, già si vedono in sua compagnia, si vedono sposate, fidanzate. E invece tutto questo non funziona. Non è così che vanno le cose. Purtroppo, o per fortuna, diciamo, dipende un po' dai punti di vista, non riuscirai a... non ottieni dei risultati importanti se agisci in questo modo. Anzi, otterrai esattamente il contrario. Otterrai esattamente che questa persona se ne fregherà di te, che questa persona non ti prenderà in considerazione. Otterrai dei risultati estremamente negativi dal tuo punto di vista. e quindi tieni presente questo fatto che è un qualcosa di molto negativo. E poi un altro errore è che la dai subito. Questo dobbiamo tenere presente che la dai subito e questo fa sì che comunque perdi potenziale. Teniamo presente che lo detto in dati video gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore e si disinnamorano un po' facendolo. Quindi, dandola subito, è evidente che non otterrai dei grandi risultati. Inoltre, c'è da dire, ci sono molte cose da dire, ma un'altra è che quando ti stai innamorando entri spesso nella sua sfera di controllo. Cioè, diciamo, ti lasci controllare, fai le cose che lui vuole e non sei più disponibile. Cioè, non gli dai più la possibilità di, come possiamo dire, gestire una situazione. resti vinculata praticamente. Questo dobbiamo tenerlo presente. Resti bloccata in una situazione che non ti porta niente di buono, tutto sommato. E poi ci sono altri fattori. Ad esempio, il quinto punto è che tendi a giustificare tutto. Quando un uomo ti piace giustifichi il fatto che magari, come dire, non ti dà tanto. Talvolta si arriva a giustificare veramente di tutto. Anche violenze, per dire. Ci sono veramente casi strani, no? Per cui l'innamoramento porta alla perdita. Sono errori. Bisogna sempre mantenere il controllo della situazione. Bisogna sempre... Perché altrimenti, anziché conquistarlo, verrai poi scartata rapidamente. Purtroppo, o per fortuna, diremmo, dipende un po' dai punti di vista, rischi di essere scartata molto rapidamente. Rischi che quest'uomo ti sfanculi rapidamente, ti... diciamo che se ne sbatta i maroni te, purtroppo è un dato di fatto. Spiace dirlo, ma è quello che accade. Quindi, se tu invece non vuoi essere sfanculato, se tu invece vuoi ottenere dei risultati, devi... come dire, non fargliene passare liscia una, diciamo così. E il sesto punto è che sei eccessivamente disponibile. la disponibilità cioè ti poni un po' come geisha, ti poni un po' come sottona. E le sottone, diciamoci la verità, non è che ottengono grandi risultati in amore, non è che ottengono grandi risultati nel coinvolgimento, restano sempre un po' come dire, sigate da un certo punto di vista. Questo è un dato di fatto, dobbiamo prenderli in considerazione. e poi settimo punto gli dai poteri come dire, lo metti sul piedistallo. Quindi crei un vitello d'oro, ma sei tu che crei un vitello d'oro. se uno è consapevole di aver creato un vitello d'oro può anche andare bene, perché io sono consapevole di aver creato un vitello d'oro e come l'ho creato lo disfo, come l'ho creato lo distruggo, come l'ho creato lo mando in tilt. Ecco, questo è molto importante. quindi creare un vitello d'oro non serve a niente a meno che tu non diciamo tu non abbia questa consapevolezza e poi lo butti giù. Allora può essere una strategia di seduzione. Io creo un vitello d'oro, prego il vitello d'oro e poi lo distruggo. E allora allora sì che ottieni risultati. Quindi evita questi sette errori quando un uomo ti piace perché sono fatali non ti portano a nessun risultato e ti mettono in una situazione diciamo di codipendenza fondamentalmente. Diventi sottona, diventi poco intrigante, poco coinvolgente. E quindi cerca di trasformare diciamo l'oro la merda in risotto diciamo cerchi di trasformare il piombi in oro acquistando la giusta consapevolezza la giusta forza la giusta capacità interiore. Bene per questo video è tutto se ti piace metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra tanti livelli di abbonamento e iscriviti fai donazione al canale se ti va puoi fare donazioni tutte le donazioni che vuoi. Bene bene per questo video è tutto quindi ti do appuntamento al pa...